Bombole cariche contenenti quasi 800 kg di GPL, oltre ad un numero di bombole vuote idoneo a contenere più di 4 tonnellate di prodotto energetico, è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Gela, diretta dal Capitano Massimo De Vito. L'elemento di maggiore preoccupazione che emerge, sottolineano le fiemme gialle, è quello che è stata messa a repentaglio l'incolumità dei cittadini gelesi. Le bombole infatti erano custodite in quattro depositi abusivi di GPL tra la via Brasile e Contrata Giardinelli. Una piccola scintilla, unita ad una leggera fuga di gas, avrebbe causato un'esplosione di proporzioni disastrose. L'attività dei finanzieri è durata settimane ed è stata condotta nel settore del commercio di gas proprio in relazione all'approssimarsi della stagione invernale. I depositi scoperti, veri e propri centri di raccolta di bombole di gas, erano privi di autorizzazione in materia di detenzione e trasporto di materiale esplodente. I finanzieri sono giunti alla scoperta dei quattro depositi grazie all'individuazione di un piccolo furgone che si apprestava ad iniziare la sua attività commerciale giornaliera di smercio di prodotto energetico caricando bombole da un garage di un condominio. Il mezzo è stato fermato. Contemporaneamente, pattuglie antiterrorismo pronto impiego dalla Guardia di Finanza hanno eseguito altre tre irruzioni in altrettanti depositi di gas non a norma. I baschi verdi hanno individuato i locali destinati abusivamente allo stoccaggio delle bombole, un camion privo di copertura assicurativa non idoneo alla circolazione ma utilizzato come deposito di materiale infiammabile e o esplodente. La Guardia di Finanza ha denunciato quattro persone per un totale di circa tre tonnellate e mezzo di gas detenuto senza alcun tipo di autorizzazione o di locale idoneo, 232 bombole piene e 458 vuote. I quattro denunciati devono rispondere di mancata detenzione della licenza per il deposito di materiale esplodente, omessa denuncia all'autorità competente della detenzione del prodotto oggetto di sequestro ed omessa richiesta del certificato prevenzione incendi riferito alla quantità di GPL detenuta. Le bombole e i locali sono stati sequestrati al fine di mettere in sicurezza il quantitativo di gas e gli immobili esposti al rischio e di residenti che abitano in zona.